Il Fondo Atlante debutta con Banca Popolare di Vicenza, come era ipotizzabile, essendo uno strumento a disposizione per il salvataggio delle banche alle prese con un aumento di capitale sociale e con crediti deteriorati. E nella giornata in cui il Consiglio di Amministrazione della Banca stabilisce la forchetta di prezzo dell'aumento di capitale, Unicredit ha sottoscritto con Questio Management SGR un accordo per la sottoscrizione della porzione dell'aumento di capitale di Popolare di Vicenza regato all'IPO che risulterà inoptata da parte di Fondo Atlante. Unicredit, sfilandosi con una operazione inusuale sul mercato dal suo ruolo nell'aumento, può quindi tirare un sospiro di sollievo. L'Istituto era stato sotto pressione in borsa nelle scorse settimane proprio sui timori che dovesse accollarsi una parte importante dell'aumento di Popolare di Vicenza con conseguente impatto sui razzi patrimoniali. Unicredit, infatti, insieme a intesa San Paolo, è uno dei principali aderenti al fondo con un contributo di un miliardo di euro acquisendo una quota non superiore del 20%. E questa è anche una delle principali critiche al Fondo Atlante che nel tentativo di salvare banche in crisi di fatto rende più deboli agli occhi degli investitori proprio gli istituti che vi aderiscono. Il primo passo di Fondo Atlante rischiava quindi di essere un inciampo e il vero salvataggio al momento è stato su Unicredit, sulla quale rischiava di gravare tutta l'operazione. Ora è già il tempo di una nuova e più importante prova, quella del mercato, e chi rischia di farsi più male in questo caso è proprio chi ha investito finora in questo istituto.